Insomma, mezzo milione, non possiamo non iniziare la nostra intervista a Marco Siracusano, amministratore delegato di Poste Pai, con i complimenti a te e tutto il team, Marco. Grazie Federica e buongiorno a tutti gli ascoltatori. In soli dieci mesi abbiamo raggiunto questo traguardo. Due domande in una, dove volete arrivare e che cosa è la cosa più apprezzata appunto dai clienti dell'offerta? Allora, prima però consentimi di ringraziare il lavoro che hanno fatto i colleghi in rete e di mercato privati, perché il successo, diciamo, è la buona partenza, perché siamo solo agli inizi dell'offerta di Poste Energia e chiaramente figlia di un lavoro di squadra, di Poste Pai, di tutte le altre funzioni di Poste Italiane, ma soprattutto anche dei colleghi di mercato privati che hanno utilizzato l'offerta di Poste Energia come ulteriore elemento di relazione che capitalizza sulla trasparenza, la forza dei valori di Poste Italiane, ma soprattutto sulla possibilità che noi si possa offrire, diciamo, un punto di contatto sui bisogni quotidiani della famiglia e questo i colleghi di mercato privati tutti i giorni sono cresciuti in questa attività. Quindi la cosa importante, 500.000 contratti, sono anche il risultato di un lavoro fatto giorno per giorno con tutti i clienti di Poste Italiane nell'ambito di far sì che l'ufficio postale sia sempre più, lasciatemi dire, il consulente della vita quotidiana delle famiglie e dei nostri clienti. È vero, dobbiamo ringraziarli e li salutiamo anche se in questo momento stanno tutti lavorando, però magari avranno occasione più tardi di rivedere questa edizione del TG Post. Dove si vuole arrivare, Marco, se c'è appunto un obiettivo e vuole raccontarcelo? E poi appunto i clienti cosa apprezzano di più? Allora, parto dalla seconda domanda. I clienti, devo dire, hanno apprezzato, diciamo, la possibilità di scegliere liberamente, perché nell'ufficio postale ma anche sui canali digitali di Poste Italiane i clienti possono richiedere un preventivo, comparare l'offerta esistente con l'offerta di Poste Energia e sceglie liberamente di adottare la nostra offerta senza condizionamenti, senza telefonate eccessive, proprio perché questo credo che sia stato uno dei primi elementi di rassicurazione e di relazione con Poste Italiane. Il secondo, come ha già fatto vedere la scheda del vostro TG, alcuni elementi innovativi. Ha funzionato e sta funzionando benissimo la possibilità di scegliere di rimborsare con una rata fissa, perché questo, ad esempio, banalmente aiuta tutte le famiglie ad avere la certezza del costo mensile e avere la possibilità di evitare, ad esempio, dopo l'inverno i conguagli e di sapere che nell'economia familiare una rata fissa è quella, ed è quella fintanto che poi non viene modificata l'anno successivo. Quindi questo è il secondo elemento. L'altro elemento che possiamo dire, e quindi dove vogliamo arrivare? Beh, noi pensiamo che la strategia che il gruppo ha messo in campo si lega al fatto che Poste Italiane, gli uffici postali, i canali digitali di Poste Italiane possono essere sempre di più un punto di contatto per i bisogni della casa. Quindi oltre all'energia, citerei il mondo anche della telefonia fissa, della fibra, quindi la possibilità che attraverso Poste Italiane tutta una serie di bisogni del quotidiano, l'every day di ognuno di noi, di ogni famiglia, trovi sempre più risposte da noi e negli uffici postali. Ecco, ci piace ricordare Marco che appunto Poste Pay non è solamente Poste Energia e vorrei elencare una serie di numeri che la dicono lunga. Più di 500 milioni di transazioni e-commerce, circa 30 milioni di carte Poste Pay, di cui questo è un traguardo tagliato da poco, 10 milioni di Evolution, ne abbiamo parlato proprio al telegiornale, 11 milioni di wallets, insomma numeri che dicevo non aggiungo alcun commento, però ci danno un po' conto davvero della leadership di Poste Pay nei pagamenti digitali. Sì, e poi aggiungo un altro pezzo della strategia del gruppo, oggi Poste Pay non ha più il core business, attività prevalente, era e rimangono i pagamenti, dove però come stiamo vedendo con l'energia e la telefonia sono anche un mezzo per aggregare altre componenti dell'offerta. I pagamenti rimangono e saranno sempre centrali perché abbiamo 30 milioni di carte, perché negli ultimi sei anni abbiamo fatto una trasformazione digitale che oggi porta Poste Pay ad avere banalmente circa 25 milioni di app, 11 milioni di portafogli digitali che sono 11 milioni di smartphone con cui ognuno di noi si sta abituando a pagare. Quindi l'ecosistema di Poste Pay al servizio del modello, di servizio di Poste Italiane, è molto importante perché è fatta della possibilità di pagare in tutti i modi fisici e digitali sempre di più e di unire altri elementi dell'esperienza, ripeto ancora una volta, quotidiana. Giusto per dare una battuta, ognuno di noi si sveglia alle 8 e fino alla sera può utilizzare nel suo quotidiano i pagamenti della mobilità, la sera può utilizzare i pagamenti dell'e-commerce, ha tutte le sue connessioni di telefonia fissa e mobile, ha i contratti che abbiamo visto di luce e gas e quindi è un mondo che oggi noi stiamo sempre più facendo convergere su tutti i bisogni della giornata che tanti milioni di clienti di Poste Italiane hanno adottato. Perché bisogna anche ricordare che ci sono una serie di clienti che stanno entrando nell'universo di Poste Italiane attraverso i pagamenti di Poste Pay, attraverso la telefonia con Poste Mobile e Poste Energia. Quindi questo è il percorso di essere davvero di servizio a tutte le comunità e a tutti i territori dove l'ufficio postale è presente, ma dove anche il grande successo dei canali digitali di Poste è quello che consente a circa 22 milioni di contatti, di interazioni al giorno di entrare in contatto fisico e digitale con Poste Italiane. Con l'obiettivo, e lo diciamo sempre, anche di superare in qualche modo il cosiddetto digital divide che ancora esiste nel nostro paese, Marco. Ma sì, io credo questo è importante perché i numeri che Poste Pay come ecosistema sta mettendo a disposizione di Poste Italiane sono anche figlio di quel percorso che dicevi tu. Noi abbiamo compiuto con Poste Italiane due fenomeni nel mondo nuovo dell'inlogazione. Prima l'alfabetizzazione, lasciatemi dire, ai pagamenti, ai pagamenti con carte e poi un vero e proprio processo di inclusione digitale che ha riguardato decine di milioni di clienti e guardate anche con il contributo, non solo delle piattaforme digitali, ma anche nell'interazione di tutti i giorni, tanti nostri colleghi degli uffici postali oggi hanno fatto un lavoro di supporto e di inclusione per le persone diciamo meno abituate a usare gli strumenti digitali, che grazie a noi oggi viceversa possono scegliere tutti i giorni se usare l'ufficio postale o i nostri canali digitali. Come dici tu, un grande lavoro di squadra, questo è in dubbio. Abbiamo parlato di mercati diversi, Marco. Come si resta competitivi? Non vogliamo svelare i segreti del mestiere, però insomma come si fa? Perché poi bisogna essere competitivi in un paese e con tanti competitor e con tanti player che giocano sullo stesso tavolo. Ma io credo che un po' come dire il percorso degli ultimi sei anni nel senso l'innovazione e la trasformazione la devi fare quando sei nella condizione di farla, quando hai mezzi per farla. Oggi l'ecosistema di post e pay che sta conclamando e sta, come dire, contribuendo ai risultati di poste italiane è stato ridisegnato nel 2017. Quindi il tema è l'innovazione non si crea dall'oggi al domani. È un percorso, è una visione ed è la capacità di eseguirla perché tante cose vengono pensate ma non tutte vengono realizzate e nei tempi necessari. Penso che questa sia una cifra importante che ha caratterizzato le strategie di poste italiane negli ultimi anni. C'è qualche novità da quale state lavorando? Magari per l'anno che sta per cominciare? Novità poi, Elena, mi rinviterete e verrò a parlarvi in dettaglio. Una cosa che posso dire è che stiamo lavorando anche a portare sempre più servizi di pagamento, ad esempio alla rete dei punti lease che è la rete della società di poste italiane che ha la capacità e la missione di gestire i servizi per i tabaccai e per i punti terzi di prossimità. Lì stiamo portando sempre più, ad esempio, l'ultima novità i prelievi con le app PostePay e BancoPosta che possono essere fatti direttamente sul punto lease. Giusto per dare un'idea del percorso che poi faremo. Per essere ancora più comodi, insomma, questo per tutti gli italiani visto che per facilitare tutte le operazioni. Assolutamente sì. Marco, grazie. Marco Siracusano, amministratore delegato di PostePay, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie Federica, un saluto e tanti auguri ai nostri ascoltatori.